Un saluto a tutti i campanai non campanai di Youtube Oggi mi trovo alla cappella di Lepra e Lepra è nel comune di Chiamonì cioè è una frazione di Chiamonì come vedete adesso purtroppo è coperto ma qua si vede il monte bianco quando c'è il sole quando ci sono le nuvole quindi questo qua è il video quindi questa qua è la cappella di Lepra in frazione di Chiamonì prima andiamo a filmare ah, interna una chiesa eccoci qua eccoci qua interna una chiesa eccoci qua eccoci qua ci si riduce vedete dice il sensore di presenza questa deve essere la porta di campanile di campanile non ho troppo tutto vuol dire non si vede queste sono le candele eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua questa deve essere la porta la sagestia e lì c'è anche l'agnellino e lì c'è l'angebot l'agnello e il signor di Dio e poi qua ci sono anche delle belle finestre questo è il tetto vedete stranamente qua non ci sono in questa chiesa le varie fasi del lato che ci visiva il nostro signore Gesù Cristo ecco ecco ci sono dei fondi ecco qua devono avere mosso qualcosa questa qua è la boccetta e la e la e insomma e sì è la boccia del che serve per specie di bicchiere specie di ciotola che serve per tenere l'acqua belledetta ma qua l'impressione che sia finita questo invece è il piano vedete che ci sono i pedali e adesso uscire una chiesa e mostriamo le steppe andiamo Gesù poi lì Gesù le varie messe c'è 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 un tono di acquisto e un tono di di musica c'è 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, adesso filmiamo la chiesa. Qui si fa il giro della chiesa, quello è il suo campanile. Bene, questo è il tetto della chiesa. Questo è il tetto della chiesa. Guarda, guarda, ci sono anche tutti qua. Sozzone, non si butto i tappi vicino alla chiesa. Qui c'è un pannello di controllo, però non penso che sia delle campane. Comunque, questo qua è il suo campanile. Vediamo che non caschi. No, è duro, molto duro. Non casca. Invece vi dico una cosa. Mi spiace per Cristian's 29, ma il campanile di Ponte San Giovanni, provincia di Perugia, siccome è un aspetto moderno, non mi fiderei assolutamente a toccarlo. da vedere se non casca, perché nei video che sono stati fatti del campanile di Ponte San Giovanni ho visto che oscilla. Ecco, quindi mi spiace. Mi spiace per Cristian's 29, però purtroppo... Allora, adesso vi dico un po' le cose. Allora, questo campanile, secondo me, contiene una campana. che di nota re. Re, do, re o mi. Quindi è fra queste tre note, però secondo me è un do oppure un re. Però sembra un re. No, do. Beh, insomma, intermedio tra do e re. È un do quattro. Un do quattro o un re quattro. Adesso non so se è un do bemolle, perché... ecco. Do bemolle o do carceletto quattro, così. che cosa. Quindi, secondo me, questo campanile... Siccome... Allora, qua, nella zona di Chamonix e oltre, però qui in Alta Savoia, c'è lo slancio. E quindi anche questa campana qua è lo slancio. Vi ricordate che alla chiesa di San Michel a Chamonix quando sono salito su campanile abbiamo visto, ma anche prima, abbiamo visto che erano campane a slancio. Quindi, in questa zona si coltiva il suono a slancio. Questo qua è il suo campanile, come ho già detto. E quindi questa chiesa, quindi questo campanile qua, secondo me, contiene una sola campana, perché lo slancio ha bisogno di spazio per muoversi. Anche alla chiesa di San Sergui, che è in Alta Savoia, sempre in Alta Savoia, però molto distante da qua, molto distante da Chamonix. San Sergui, ci sono due campane, però ho avuto una macchia con cerchino di rosa, però ho avuto una sorpresa. Ho guardato un video di persone che fanno i video di campanile dell'Alta Savoia, che è uno che si chiama su YouTube le cloche Savoia, che ha messo un video di quelle campane, e ho visto che erano due campane, ed erano un Fa3 e un La3. E quindi, e quindi qua bisogna, e quindi, questo campanile secondo me continua una sola campana, purtroppo. Ecco, quindi questo è quello che volevo. Quindi, e quindi questo è tutto, questo è tutto di quello che volevo dirvi sulla cappella di San Bernard Lepra. E questo qua è il video di appunto di questa cappella, e... Beh, che vi devo dire? A presto e al prossimo video, e a rivederci da Fred Foster e mia madre, che è qui vicino. A rivederci.